Io ieri sera ho avuto una bella conversazione con Antonella, la madre di Ciro, ho fatto a lei complimenti per come si sta comportando in queste ore, per la dignità e l'orgoglio di essere napoletane. Ho detto a lei che tutta Napoli si stringe attorno a Ciro, sperando che guarisca presto e ho fatto anche l'auspicio che possa diventare un testimone della legalità basta violenze negli Stati e fuori gli Stati, quindi è stata una bella conversazione e deve crescere questa superiorità etica dei napoletani, non dobbiamo più reagire alle provocazioni e dobbiamo essere esemplari, questo è il messaggio se veramente si vuole cambiare.